essere senza tentare di pensare all'essere senza sovrapporre la distrazione della mente afferra quella percezione dell'io sono quell'essere radicati in esso e contempla solamente questo butta via tutto il tuo parlare i tuoi concetti e le parole dopo tutto che cos'è la mente non è altro che l'incessante rumore interiore nel momento in cui ci si sveglia comincia il chiacchiericcio e così la parola procede senza sosta questa è la mente tu gli corri dietro la mente che interpreta il piacere e l'infelicità è fatta per condurre gli affari nel mondo il sapere che tu sei è manifesto e pervade tutto è più puro e più sottile di questa luce e perciò può averne coscienza siccome tu sei radicato nella memoria individualizzata sei incapace di comprendere questo sapere e conseguentemente non hai pace il tuo corpo che è un recipiente di cibo non è te ma il senso dell'essere te che vi risiede quello sei tu nella tua essenza tu non sei capace di rinunciare alla tua identità con il corpo questa è la grande maia l'illusione per questo motivo non riesce ad assorbire quello che dico essere significa percepire se stessi come l'intero dinamico universo quando si trascende l'individualità l'essere manifesto è uno solo ed è in questo processo che il manifesto rivela se stesso questo mondo manifesto è il gioco dinamico dei cinque elementi non vi alcun ruolo da compiere per l'individuo un diamante riflette la luce tutta attorno è la radiosità stessa nella meditazione profonda ti renderai conto che così come la brillantezza emanata da un diamante viaggia in tutte le direzioni il mondo manifesto è emanato da te si tratta solamente della tua luce l'intero mondo si manifesta in quel principio che viene definito essere o nascita questo essere illumina tutto ciò che esiste che significa che l'intero universo si manifesta come corpo dell'essere su uno schermo televisivo vedi forme diverse immagini e paesaggi ma si tratta di giochi del tubo catodico allo stesso modo l'intero mondo manifesto che tu percepisci è il prodotto del tuo essere quando entri in uno stato di profonda quiete dopo la completa comprensione di questi discorsi osserverai che nel sapere tu sei esistono innumerevoli universi e cosmi latenti non mi interessano i miracoli che accadono fuori ma solo quelli che accadono dentro di me nel mio stato originale di non conoscenza non conoscevo il senso del mio essere ma all'improvviso l'essere è stato sentito spontaneamente questo è il primo miracolo successivamente in un lampo ho osservato questo enorme mondo manifesto e il mio corpo poco dopo ancora ho avuto la consapevolezza che l'intero universo si è manifestato nella particella infinitesimale del mio essere perché non prestare attenzione a questi miracoli ne accadono una gran bella quantità ognuno più grande del precedente a cosa dire di questi per prima cosa non c'era un io sono e non c'era nemmeno il mondo istantaneamente dal nulla il messaggio io sono e questo mondo magnifico si sono materializzati che cosa incredibile la mente di colui che risiede nella conoscenza dell'io sono gustando continuamente questo nettare quella mente che asserisce differenzi alle persone osservandole come uomini e donne gradualmente non si troverà più al centro dell'attenzione lasciando la coscienza nella sua gloria innata solo se uno accetta completamente la conoscenza io sono come se stesso e con piena convinzione e fede crede intensamente nell'affermazione io sono ciò per cui so che io sono egli trascende l'esperienza della morte e ottiene l'immortalità se voi poteste lasciare andare tutti gli altri sforzi spirituali tutte le discipline e assorbirvi completamente nella coscienza la mente vi libererebbe dai suoi nodi se la mente diventa silente dove siete e che cosa siete che cosa sono io per me stesso che cos'è questa vita una volta che a queste domande si risponderà intuitivamente e una volta emersa la realtà la mente non potrà più prevalere tuttavia continuerà a funzionare ma la sua qualità sarà totalmente differente colui che ha ottenuto questo stato rimane inalterato qualunque cosa gli accada attorno dal momento che il chiacchiericcio della mente non può sortire alcun effetto e chi potrebbe essere costui di sicuro non un individuo intrappolato nella mente costui è il sapere io sono la coscienza si dice che dovremmo rompere i lacci che ci tengono legati al corpo e al mondo che cosa significa questo che qualsiasi cosa si veda o percepisca accade nella dimensione corporea o mondana generiamo attaccamento verso l'oggetto percepito e successivamente identificatici con il corpo rivendichiamo la proprietà dell'oggetto in questione l'attaccamento è la natura della mente essa persiste in modo ostinato in questi attaccamenti ma se vi stabilizzate nella coscienza ogni cosa sarà risolta non dovrete andare da nessuno per risolvere i vostri dubbi ebbene è bello essere coinvolti in questi discorsi ma farli propri e comprendere la loro essenza è di fatto molto difficile perché perché voi credete fermamente d'essere i vostri corpi e agite di conseguenza intrattenendovi in desideri di raggiungimento di mente ambite in questo mondo e magari ancora più ambite dopo queste aspettative sono essenzialmente basate sulla nozione errata che voi siete il corpo questa scorretta identificazione si dissolve quando vi riassorbite interamente nella coscienza e perdete la vostra individualità risiedere nella coscienza rimuove tutti i problemi del passato e del futuro e fa stabilizzare nel presente qui e ora coscienza nel senso di sapere io sono senza verbalizzazione un sapere che appare all'insaputa e senza essere sollecitato si tratta della forza vitale universale manifesta e perciò non può essere individualistica si estende fuori e dentro come la brillantezza di un diamante se la coscienza prevale voi vedete un mondo onirico dentro di voi è un mondo percepibile all'esterno dalla prospettiva del corpo voi potete dire dentro e fuori quest'ultimo ma dal punto di vista della coscienza dov'è che si può parlare di dentro e di fuori soffermatevi su questo sapere io sono e la fonte della conoscenza strariperà in voi rivelandovi il mistero dell'universo in questo processo di rivelazione la vostra personalità individuale definita dal corpo si espanderà nell'universo manifesto e pervaderete abbraccerete l'intero cosmo come vostro corpo questa dimensione è conosciuta come pura super conoscenza ciò nonostante la mente si rifiuta di credere che è una non entità ma non appena si sprofonda nella coscienza si sviluppa la ferma convinzione che la conoscenza tu sei il senso del tuo essere è la vera origine del tuo mondo solo questo sapere vi fa sentire che voi siete e che il mondo è nella realtà questa conoscenza manifesta avendo occupato e permeato l'intero cosmo risiede in voi come sapere tu sei radicatevi in questo sapere non cercate di definirlo o di dargli dei nomi arriviamo così a una questione molto delicata che cos'è in voi che comprende questo sapere tu sei o dal vostro punto di vista io sono senza un nome titolo o parola rifugiatevi nel centro più recondito e testimoniate il sapere io sono siate semplicemente questa è la benedizione dell'essere la svarupananda voi perseguite il piacere e la felicità attraverso vari processi e strumenti ad alcuni piace indulgere nel buon cibo altri amano vedere bei dipinti altri ancora vengono assorbiti dalla musica e così via per tutte queste forme di piacere sono indispensabili alcuni fattori esterni ma per risiedere nella beatitudine dell'essere non c'è alcun bisogno di supporti esterni per comprendere questo punto prendete l'esempio del sonno profondo una volta che siete in quello stato non c'è bisogno di aiuti o ritrovati esterni affinché possiate godere una quieta felicità perché perché in quello stato l'identità con un corpo maschile o femminile viene totalmente dimenticata alcuni visitatori mi chiedono per favore ci mostri il cammino che conduce alla realtà come posso farlo tutti i sentieri conducono all'irrealtà i sentieri sono creazioni nel campo della conoscenza perciò sentieri movimenti non possono trasportarvi nella realtà la loro funzione è quella di trattenervi nella dimensione conoscitiva mentre la realtà le è precedente fino a quando non avrete raggiunto questa dimensione rimarrete impigliati nelle catene della vostra mente e intrappolati in quella degli altri perciò lo ripeto stabilitevi all'origine del vostro essere e solo allora tutte le catene saranno spezzate e sarete liberi trascenderete il tempo sarete oltre la portata dei suoi tentacoli e prevarrete nell'eternità si tratta di uno stato di estatica beatitudine il sé che risiede beatamente nel sé questa estasi è oltre le parole e anche consapevolezza nella totale quietitudine la quintessenza di questo discorso è chiara il punto principale è il sapere che voi siete prima dell'emanazione della mente rimanete in questo sapere e meditate nulla è superiore a questo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.